I 15 cm di neve caduti ieri a Campo Imperatore non hanno compromesso il programma dell'apertura degli impianti. Si scia oggi e domani, primo maggio e ultimo giorno di una stagione invernale strepitosa per il Gran Sasso. Dunque anche domattina si potrà sciare sulle piste di Campo Imperatore fino alle 14, come conferma l'amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli. Poi un brindisi finale per salutare la stagione invernale. Colture salve intanto dopo l'ondata di maltempo che ieri ha colpito l'Abruzzo e la provincia dell'Aquila. Frutte e ortaggi, almeno per quanto riguarda questa coda d'inverno maggiolino, possono ritenersi al sicuro. L'ondata di maltempo che ieri ha portato a far cadere tra i 10 e i 15 cm di neve, al di sopra di 1500 metri di quota dal Gran Sasso a Campo Imperatore fino all'Alto Sangro, alle Rocche e torno in parte, ha risparmiato le colture. A spiegarlo è Angelo Dommo, presidente di Coldiretti l'Aquila, questa mattina al termine di una ricognizione delle conseguenze che neve, mista pioggia e abbassamento delle temperature hanno determinato sulle colture della provincia. Le temperature a bassa quota non sono mai scese sotto lo zero durante la notte e questo ha salvaguardato i campi e i frutteti. Lo scenario insomma è ben lontano da quello del 25 aprile del 2016 quando la neve e il gelo distrussero interi raccolti compromettendo nella tenuta per un biegno. Non bisogna però abbassare la guardia, spiega Dommo, perché non è detto che nelle prossime notti le temperature con il cielo sereno non possano invece crollare sotto lo zero anche a bassa quota. Ai piani di pezza intanto nella notte la colonnina di Mercurio ha sfiorato i meno 16 gradi.